Intanto una doverosa precisazione, parliamo di superbatteri, sono batteri e non sono virus. Il virus è quello del Covid. Sbagliato io, ma il professore mi corregge. No, solo perché da un punto di vista classificativo sono un'altra cosa da un punto di vista biologico. Però sono un problema che il Covid stesso ha enfatizzato, ha amplificato, perché noi sappiamo che l'ospedale, luogo di cura, può fare bene, lo fa solitamente durante i primi giorni, poi se la storia si allunga troppo incomincia a fare male. E l'ospedale che fa male è l'ospedale che espone il degente, solitamente il lungo degente, è la complicanza infettiva, cioè questo operato, questo ospite della terapia intensiva, questo anziano allettato si becca un superbatterio, cioè un microrganismo che è multiresistente agli antibiotici. Questa scarsa sensibilità alla terapia antibiotica rende questi batteri, altrimenti in qualche modo controllabili, dei reali problemi terapeutici che mettano a rischio la vita dei pazienti, che hanno queste setticemie, che hanno queste polmoniti, che hanno queste infezioni gravi da superbatteri. E nel Covid noi l'abbiamo visto, questo fenomeno, amplificare proprio nei degenti con la polmonitera Covid, ospitati in terapia intensiva, ventilati meccanicamente a lungo e che hanno purtroppo sviluppato una complicanza. Magari anche polmonare, quindi una sovrainfezione sulla polmonite da Covid, una polmonite da batteri gran negativi o da stafilococco, oppure una setticemia. Ecco, quando andremo a analizzare quel 22% di letalità di cui parlavo prima, e sono numeri veri perché su 1.500 ricoveri, fate i conti, quello che è il 22%, sono centinaia di morti, ciascuno con nome e cognome, insomma indirizzo e numero di telefono a fine. Quando andremo nel dettaglio a verificare la causa ultima di morte, in molti di questi vedremo che è stata proprio una infezione da superbatteri. Allora come si fa a levare i superbatteri dagli ospedali? Perché ci sono, si potrebbero levare, come? Eh, si potrebbero levare, si potrebbe fare di più per cercare che i pazienti ricoverati non acquisissero o si riducesse il rischio di trasmissione. Sono le buone pratiche assistenziali, essenzialmente il lavaggio delle mani, per essere proprio icastici, sintetici e, vede, paradossalmente la necessità di proteggere se stessi, il personale, dal rischio Covid, ora i medici e gli infermieri hanno pagato a caro prezzo, a caro prezzo. Voglio dire, no, quindi la protezione dell'operatore, la protezione dal rischio Covid è doverosa e è, come dire, imperativa. Però spesso le pratiche di protezione individuale non collimano, non collidono con le buone pratiche assistenziali di prevenzione dell'infezione crociata e questo ha creato delle distonie assistenziali che hanno favorito la trasmissione dei germi resistenti che abitano in ospedale, che abitano nell'intestino del paziente che ha ricevuto a lungo soprattutto antibiotici. Ci si deve fare di più, speriamo che tra le buone eredità che ci dovrà lasciare il Covid ci sia anche questa nostra capacità nel fronteggiare al meglio la sfida delle infezioni.